Buon pomeriggio ragazzuoli, bentornati in questo nuovo episodio a questo punto di Uncharted The Lost Legacy Buon pomeriggio ragazzuoli, bentornati in questo... Ah ok, qua si sente tutto Allora ragazzuoli miei La situa è questa Oggi iniziamo prima E siamo da soli perché sostanzialmente io più tardi ho un impegno abbastanza urgente E quindi oggi ci facciamo un po' di Uncharted da soli E niente, andiamo avanti Andiamo avanti con la nostra storia Volevo controllare una cosa Ok Volevo vedere le difficoltà Comunque è difficile, va bene Allora, storia Continuiamolo Capitolo 6, il custode Finalmente la mia voce si sentirà meglio Oh, meglio Ho fatto un cambio del microfono molto tattico Molto, molto, molto tactical Solo che per poter utilizzare il microfono adesso mi toccherà giocare sempre con le cuffie Perché se no mi rientra tutto l'audio delle casse E diventa obrobrievole Spero che i livelli audio siano giusti ragazzi Io purtroppo Ho fatto quello che potevo Nel senso che Ho provato a settare i livelli in modo da avere la miglior qualità possibile E spero di che Non si vada a sovrapporre l'audio del gioco troppo rispetto alla mia voce Diciamo, cercherò magari di non parlare nelle situazioni più concitate Comunque Dove c'eravamo fermati? Ah, già Ricordo Sì Mi ricordo molto bene Allora Qui avevamo un bel problemino Ovvero Il dover Eliminare la gentaccia Che qua è pieno di gente Il problema non è tanto la gente però Il problema È quest'auto di merda Che fa avanti e indietro E ci crea molti problemi Perché rischia di farci beccare E se qualcuno ci scopre L'auto inizia a distruggerci Perché c'ha una mitragliatrice fissa Sopra la capoccia Quella Esattamente quella Quindi Dobbiamo cercare di eliminarli tutti Magari partendo da quelli In alto Merda Merla Come? No vabbè ragazzi Non è possibile però Che mangiare questo Ma che cazzo è sta merda? Eh vaffanculo Aspetta ma c'è una pistola silenziata Non l'ho presa Mi devo ricordare che sto difficile giustamente Però Porca droga Dai Beh teniamo gli occhi aperti Sono nascoste qui in giro Non possono essere lontane Levati dal cazzo Merda ma quello mi guarda dietro Dai Non lo sapevo che potessi guardare dietro Vabbè mi faccio uccidere Dai Uccidimi Mi faccio uccidere che almeno adesso c'ho la pistola silenziata Dai Oh mezz'ora Ad ammazzarmi Che immagine orribile No Non mi rimane la pistola Shit Allora facciamo basta Stronza Dobbiamo fare cose per penino Quello lo facciamo girare Ottimo Cazzo Uh non l'ha neanche visto E l'ha anche acciaccato tra le altre cose Ok Cazzo Devo stare Merda dai Dai Ma come Dai Cristo santo però Corri Puttana corri Vaffanculo Sta diventando abbastanza scurrire questo Questa run Allora cerchiamo di ragionare su cosa fare A parte il fatto che io sono abbastanza certo di Aver abbandonato la partita scorsa con un Con una pistola silenziata Che invece a quanto pare non ho Allora Là c'è un figlio di puttana Che non so Da dove è uscito fuori Ma mi ha visto No Sì vabbè ma che cazzo Ma è pieno Ma chi è che mi spara Chi è che mi spara da qua Sì Cristo Dio però eh Mo sto iniziando a incazzarmi veramente Mo sto iniziando veramente a incazzarmi Figlio di puttana C'è un altro dietro che non riesco a beccare Allora facciamo un giro tattico Ma non è che magari li posso evitare del tutto questi Sarebbe abbastanza Utile No Ok Puttana quanti sono Ma come No ma secondo me non è obbligatorio farli tutti Scusate un attimo il telefono Il posto non è nulla di importante Secondo me non è obbligatorio farli tutti No anche perché sono veramente un'infinità Allora io provo ad avanzare Forse avrei dovuto prendere almeno la La pistola silenziata però perché Madonna che paura Ok allora lo stelta alle volte È la soluzione migliore Il problema è che io devo ammazzarli per forza Perché devo fare qua Cristoforo Colombo Devo attivare il meccanismo Niente devo ammazzarli Devo ammazzarli Devo trovare il modo di ammazzarli Senza farmi cioccare Allora io direi partiamo da quello Puttana C'è una cassa Che la macchina non credo arrivi qui Oh Si è ringraziato il cielo Che la macchina gira là ma Di qua dietro non passa Quindi Allora qui c'era un figlio di puttana Poco fa Che credo sia quello Vieni 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 stronzo Vieni qua Ok Ok Spero che non mi veda nessuno da qua Purtroppo In questo gioco Non ci sta L'opzione Per fischiare E attirare nemici Sarebbe molto utile La casa è stronzo Allora Diciamo che l'RPG Potrebbe essermi utile Per farlo saltare in aria Mo La questione È che qua è pieno Quanti proiettici Ha un colpo Eh È un regalino per cui è corazzato Un cazzo Perdonami Non so se hai notato Quanti sono No 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 Allora Facciamo così Io Provo a eliminarli Tutti i stealth Se riesco a eliminarli Tutti i stealth Dopo torno qua E Prendo l'RPG Però non mi devo far beccare Puttana Eva Devo stare attento Tutto libero Dai su Là c'è un'altra cassa E io devo arrivare là Senza farmi beccare Ma arriva la macchina La lascio passare Però intanto arriva di nuovo quello Porca troia Vedi perché quello mi vede Perché giustamente si gira Quel trabicolo di merda Senti Non posso rischiare Che cazzo Puttana Dai Sì ma come cazzo Mi ha visto Non c'è speranza Con quel corazzato Alli caicani Eh quindi Forse mi possono scondere Diavolo Ma come cazzo Mi hanno visto Di nuovo Vabbè Madonna karma di merda No niente È andata A sta difficoltà Non si può Perché devo ammazzare Il trabicolo Ci vuole pazienza Però Oh fermi Mi ha fatto Mi ha fatto riniziare Da qua Dagli a sto telefono Di merda Allora Allora Ho scelto un'arma Di merda Parliamone Ho preso una decisione Che non va bene Ma il c4 Perché non me l'ha preso Allora Arridamme la mia Type di merda Che c'ha È una merda Ma è meno merda Di quell'altra merda Allora Vediamo di fare le cose Per benino Sono molto scurrile Oggi Ma mi rodo Un po' il culo Allora Quello ha un caschetto Quindi io immagino Di non poterlo uccidere Ed shottandolo Vero? Ne forse Vero? Ah ma tu sei tutto qua Bravo Porca merda Ovviamente Ovviamente Dovevo venire adesso Perché ci sono io Fanculo Eh Come se n'è andato Diciamo che Quello lo potrei Anche shottare Volendo Sai che fa il giro Ho preso pelo pelo Ok adesso Mostro un po' più tranquillo E apro la cassa Ah Un rpg Con quanti colpi Sempre uno Però non lo posso fare adesso Perché sono troppo scoperto Quindi Allora È arrivato il momento Di mettere che a posto Stronzo Ah Lui si affaccia là Ottimo Ottimo Così non corro il rischio Di essere scoperto Mi farò trovare pronto Vediamo se La registrazione È tutta a posto Guardi si Allora Adesso Dovrebbe avvicinarsi qua Leggermente meglio Di quello che ho Adesso Lasciamo passare Il trabicolo E Prendo Dovrebbe essere C4 Quello Penso Dove è andato Ah io lo posso Prendere da qua Ok Allora Allora Adesso Con calma Devo arrivare fino là Quindi Là mi vede Sicura Sicuro come La morte Come la morte E le tasse Che mi vede Quindi adesso Lo lascio passare Tranquillamente Passa Bravo Dopodiché Corro qua dietro E entro Nell'erba Ale E questa è superata Adesso Prossimo Il prossimo Direi che è quello Cioè Quello dove iniziavo All'inizio In pratica Dove stavo all'inizio Lì ci sono due tizi Di cui Uno per terra Come al solito E uno sopra Allora Quello per terra In teoria È senza il metto Quindi potrei Shotarlo Però devo fare un'azione Devo Fare un'azione di fino Not so easy Not so easy Ma che c'ha L'elmetto pure lui Ah merda Il problema è che Quel figlio di puttana Prima mi vedeva Da lontanissimo Quindi mi conviene Eliminarlo Puttanaeva Devo stare molto attento Che poi All'inizio Ho pensato Anche che Probabilmente Potessi Andare dietro Il carro E piazzarli C4 Senza Merda Ho spostato tutto Piazzare il C4 Senza farmi spostare Cioè Sì Cazzo Senza farmi Notare In realtà Non è così Perché Il tizio Ti vede anche dietro Porca troia Porca troia Porca troia Allora Poi Tu Tu Conta che Devi crepare Malissimo Ok Lui posso Credo Posso buttarlo Giù da qua Non so se Se è troppo Basso Forse posso Farlo Sì Io ho come L'impressione Che Questo cavolo Di 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 Veicolo qua Va dove sto io Cioè Riesce Tipo A captare Dove mi trovo E fa i giri In base a dove sto Perché prima Perché facevo i giri Di là Adesso li fa di qua Che significa Questa è una cassa Della madonna Secondo me Però è veramente Troppo scoperta Non la posso prendere Cioè È esageratamente Scoperta Comunque Questo l'ho ammazzato Quindi adesso posso Tornare Dietro Ok Posso E quello Chi cazzo è Merda Oh Dai Chi l'ha visto Ok Adesso potrei essere Nei cazzi Ma non è detto Ma che è sta cosa Allora forse mi conviene Andare a prendere Forse mi conviene Andare a prendere Lanciarazzi Perché sono in tempo No ti prego Se lo fai Sono a merda Non capisco Che Ma che manovre Sta facendo Eh io devo passare Che dobbiamo fare Ok Niente Sta là Vabbè Senti Vaffanculo Non ti spostare Ah Merda Cos'è stato Cazzo Cos'è stato Stai vero Eh Occhi aperti Qui c'è un'altra vittima Che hanno trovato Tipo Dai scendi giù Why you're not Why you're not Sceso Niente Mo' ha fatto il giro Ho aspettato mezz'ora Che se ne andasse Che cazzo C'è un'altra vittima C'è un'altra vittima Allucinante sta cosa Secondo me l'hanno Gli hanno fatto un'intelligenza artificiale sbagliata Completamente sbagliata Perché Cioè A me va bene tutto Però Che questa giri in base a dove mi trovo io Non c'ha senso Dovrebbe fare dei pattern suoi E basta Che cazzo vuol dire che va in giro dove mi trovo io E il tuo elmetto dove è finito? Ok Non ne rimangono tanti eh Quindi me la posso giustare Ah in teoria rimangono loro due Più la bestia Quindi io potrei provare a tornare verso Il Il lanciarazzi Con la sciatola Da qua Mi vedrà da questa distanza? Mi stava vedendo Cioè è allucinante Dai Ma dov'è che stava il lanciarazzi? Ecco Allora L'uridone Ti aspetto Perfetto Mo' sono rimasti Erco solo là In teoria io ho un altro colpo di lanciarazzi lì Quindi volendo potrei andare a prenderlo Però aspetto che La macchina se ne vada Intanto controllo una cosa su Twitch Perché non mi da online? Qui c'è Scusate c'è Un problema Che non capisco cosa sia Che cazzo di problema ha Twitch? Perché non mi da online? Perché non mi da online? Adesso si Adesso si Non mi da online prima Dai che merda Cazzo Sì ma non mi da online? Sì ma non è possibile sta cosa Dai E sei una puttana sei? Ma com'è possibile? Dio santo Meno male che No adesso Quanti cazzo ne sono rimasti? Ho sentito che il C4 Va d'accordo con Orca troia No me sa che m'ha salvato Meno male Meno male Dio santo Grazie al cielo Almeno il sistema di salvataggio È fatto degnamente Dai non è possibile Ma che cazzo vuol dire Che passa sull'erba alta? No scendi scendi Allora Adesso A ritorno a prendere Il secondo colpo Anche se prima non ci sono andato In realtà Prendo il secondo colpo Ammazzo il tizio Non mi ricordo dove stava Però il secondo colpo Sinceramente Non me lo ricordo Forse era qua sopra Ma non sono Certissimo Cazzo Eccolo Ok E adesso C'ho due colpi Ora Devo matare Quello Dopodiché Rimango io Il bestione Cazzo sta andando Ciao bello Adesso Mi devo mettere In un posto Riparato Possibilmente Perché non c'ho Voglia di crepare Ok Tipo qua dietro Eh questa non è male Però non è silenziata Eh sì però Se questa merda Si muove Continuamente Non siamo più Così duri Non l'ho distrutto Ci siamo E' quasi andato Oh Fuck you Vai vai Salta in aria No dai No dai No dai Io non ho armi No dai Io non ho armi Cazzo Cazzo Dove lo trovo Un fucile D'assalto Cioè in realtà Era pieno Il problema È che io Aspetta aspetta Qua è morta gente Però prima Te cosa sei Ok te Vai bene Ma non in questa situazione Allora Qua sopra ho ammazzato uno Prima La pistola Ovviamente Qua ne ho ammazzato Un altro Ma Pare di no Pistola Raffica Ma è qualcuno Che avesse un Un fucile D'assalto Tu 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 ce l'avevi Dove sono i fucili Che stavano qua Eccolo Come innesco Che cazzo L'ho buttata qua Questa Ah merda L'ho buttata io Adesso Senza rendermene conto Che cazzo Mi hai colpito Da dove Da Merda Brava Natin Cazzo Cazzo Eh guarda Quanto è difficile Colpirlo Merda Ho quasi finito i colpi Ok Nadin Ci siamo Via libera Oh mio dio Ce l'ho fatta E' stato Veramente difficile Ragazzi Veramente difficile Ok Questo è ottimo Me lo tengo Diabolo Mi ho detto una mano Allora Prima però C'era una cassa rossa Che mi pareva una cassa straordinaria Così a vederla Quindi voglio vedere cosa ci stava dentro Ok Ok Non so perché Twitch aveva deciso di non Che io non stessi streamando Allora Fatemi sentire un attimo Se tutto è a posto con l'audio Secondo Tutto perfetto ragazzi Non ho niente di che sta cassa Pensavo fosse molto meglio Ah c'era un RPG Giustamente Va bene Non mi serve più Cioè praticamente per buttare giù il corazzato Ci sono voluti Due colpi di RPG E 3 C4 Giusto Due colpi di RPG 3 C4 Se non sbaglio Ok Qua sopra non c'è niente Hai bisogno del maiuto Nadine? Oh E la campana? Yes Prego comunque Mi hai mentito spudoratamente Non ti ho mentito Ho solo tralasciato la parte su Senna Incredibile Senti Asava è in vantaggio E noi dobbiamo correre Noi? Oh merda Senti io Dimmi tutto Ok Sarò del tutto sincera Ho bisogno di te E pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna Lo so Ho sbagliato D'accordo? Queste le chiameresti scusa Se possono servire a trattenerti Sì certo Senti Senti Qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere Non è così? Perché sia chiaro La mia priorità è la zanna Non Sam Drake E di certo E va bene Sam Drake Allora Allora Ah un secondo solo che Volevo alzare leggermente il volume delle casse Cioè delle mie cuffie Ma in realtà direi che è già abbastanza alto Ok Allora Abbiamo aperto questo La campana di questa muccona gigantesca Oh Si va all'esplorazione Fantastico Che stai facendo? Non spero che non ci seguono Siamo sicuri che sia una buona idea Chiuderci dentro un marchi ingegno Di chissà quanti anni fa Vecchio di chissà quanti anni A me sembra una follia Un'esplosione? Che posto? Che diavolo combinano? Prendono una scorciatoia Non so Continua a sembrarmi una pessima idea Prendere scorciatoie di questo genere Qua è inaccessibile Che mi prenda un culo Oh wow I re facevano entrare i loro sudditi da queste gallerie Cosa? Non abbiamo trovato l'ingresso Abbiamo trovato la porta di servizio Ah Tesoro Il braccialetto si illumina Eccolo qua Bottiglia d'oro del decimo secolo D'olio scusate Non so perché ho letto d'oro Bottiglia d'olio Che mi sembra Chiusa in realtà All'apparenza Sembra chiusa Comunque una bottiglia d'olio Nulla di più Ciao Rose Buon pomeriggio Ok Sembra un pozzo a gradini Non ti interessa Sì Veicoli Molto probabilmente sì Ok Qua non c'è nulla di particolare È l'uomo pipistrello Che cazzo Che cazzo Che è un dinosauro Tesoro Tesoro Sono a casa No Si trova qua Si trova qua Ma qua dove? No 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 Qua sono venuto Ah A meno che Non sia Qua Ma dall'altra parte Potrebbe essere Eh sì Eh sì Cavigliere ad argento antica È una cavigliera Interessanti dettagli È un serpente Credo che sia un motivo Si probabilmente indica qualcosa tipo serpenti O rettili in generale Cosa cazzo Adesso È un elefante Cazzo È caduto dall'alto Madonna Ma che è? Sembra un tirannosauro Ok Devo aiutarla da sopra Tranqui Ci penso io Eh ho visto Grazie Cavolo Quelle esplosioni Devono aver causato il crollo Calma calma Va tutto bene Scusa cara Vi tireremo fuori Vai Spingi 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 No 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 Aspetta un attimo Dobbiamo saltare Giù Mantieni la calma Stai parlando con me O all'elefante Entrambi Piano Piano Con calma Ma lo posso indirizzare io? Ok C'è un tesoro Sì lo posso indirizzare No no Shit Come si scende? Dai c'era un tesoro Cazzo Eh non posso scendere Da sto elefante Di merda Eh posso dargli da mangiare? Guarda Oh Bellissimo Ancora uno Eh ma che mi serve indirizzarlo Se tanto Buon appetito Fa il cazzo che gli pare No regà Siamo in paradiso qua E niente Ho perso un tesoro Senza da volerlo Io ho provato anche A buttarlo verso la parete Per prenderlo Ma non Non ci andava E quindi Scimmie malefiche Guarda quante Senti io Non sono portata Per i rapporti interpersonali Sei un idiota egoista Già È vero Sono un idiota egoista No Almeno lo ammetti Sentito papà In fondo ho preso qualcosa da te Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona Che non si arrende Il ministero della cultura Si offrì di finanziare La sua ennesima spedizione Perché quella volta Diceva lui Aveva trovato qualcosa di grosso Trovava sempre qualcosa di grosso Ma I banditi assalirono il suo campo E Le autorità locali L'hanno trovato tempo dopo E questo coso è tutto ciò Che mi resta di lui Mi dispiace Oh No Aveva fatto la sua scelta Quindi? Senti Fraser Adesso Che sta facendo? Caricando credo Digni di fermarsi Perché? Parlo elefantese? Guarda là Ecco perché era così agitata Riguardo alla storia di Sam Senti ti capisco Ok Anch'io ho le mie rogne da risolvere Non lasciamoci distrarre dall'ediozia Ok? Ok Ci sta Andiamo Stiamoci Se il resto dovesse andar male Almeno abbiamo riunito una famiglia Ja Ma Non ti avvicinare C'è un cucciolo per loro Giusto Già Probabilmente se ci avviciniamo ci Sturbano malissimo Allora Vediamo un po' se qua dietro c'è qualcosa No Niente Mi ha vibrato per qualche motivo in particolare O solo perché sono salito? Solo perché sono salito Ok Va bene In realtà il braccio letto ci facilita molto le cose Perché così possiamo esplorare senza perderci gli ambienti Oh Sto indietro Sto indietro Quel toro Ti ucciderà E sarebbe un peccato morire qui dopo aver fatto tanta strada Già Qua sotto c'è il profondo buio Non mi pare il caso di andarci Ciao elefanti Ehi C'è un treasure qua Sala che affronta la tigre Siamo sulla strada giusta E c'è anche sala che affronta la tigre Con la spada tutta piegata Ma il tesoro? Eccolo L'ho visto? Sì l'ho visto Martelletto da zucchero cerimoniale Martelletto da zucchero cerimoniale Perché un martelletto da zucchero? In teoria lo zucchero non... Oddio sì forse lo formano a blocchi A blocchi Un po' come il sale Quindi Sì Ci sta Oppure serve per Renderlo a granelli più piccoli Ah c'è un pugno di una parte E una testa Di quella che sembra essere una pantera dall'altra Con Il martelletto che gli esce da Da bocca e nuca Non vedevo elefanti da un pezzo Ma me li ricordavo più grandi Probabilmente sei abituato agli elefanti africani Questi sono indiani Che differenza c'è? Sono più piccoli Con orecchie più piccole E come due bozze sul crani Ma hanno tutti una cosa in comune Ovvero? Schiacciano chiunque si avvicini ai loro cuccioli Ok afferrato Pro memoria Stai lontano dagli elefanti Ok Non mancherò Ma buonasera signore casse Speravo ci fosse un tesoro Eh vabbè Rotto il cazzo però Asave è gentile a lasciare scorte per noi Oh yes Prendi quello che ti serve Non quello La pistola è normale? Sì Vediamo che ci sta qua dentro Speravo che la cassa rossa Significasse un contenuto migliore Ah forse no Forse rosso indica esplosivi Molto probabile Considerando che dentro c'era un RPG Cosa abbiamo? Un Harrowed E del C4 che prendo Allora a questa difficoltà La precisione è assolutamente più importante di Di qualsiasi altra cosa E lì c'è un tesoro Cosa è successo scusa? Che è sta mafia? Attaccati Scatola di agata preziosa Lì gliel'abbiamo rubata ad agata quindi Mamma mia faccio delle battute veramente emozionanti Ma io non capisco una cosa No in realtà capisco tutto io Olè Foto Eh beh C'è da dire che il paesaggio non è male Non è niente male Ha il suo perché diciamo C'era un dialogo? Spero di no C'è un altro treasure qua Dov'è? Dove cazzo sei? Ah eccolo là Kawano d'oro Raja raja O una moneta o un medaglione Non sono esperto di indiano Quindi non so cosa significhi Kawano Ah ok Qui è dove sarei arrivato Per prendere l'altro tesoro Ok E quindi una volta arrivato qua Devo andare di là Ok Ottimo Allora Dobbiamo fare le cose un po' meglio Ok Ok Belle ste statue dentro Tutte Immersi nella vegetazione Con le scimmie che si aggrappano Alle lance Mi ci aggrapperò anch'io Tra poco penso Vieni Nadine Seguimi Hop E hop Ogni tanto vedo dei triangoli Per aria In realtà non esistono Opla Oh Non si è rotto niente Miracolo Capitolo 7 L'eredità perduta Fuck yeah Fuck yeah The Lost Legacy Nessuno 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 tranne Asav Nessuno tranne Asav E i suoi uomini E i suoi uomini Pronta Hai Ho rovinato la poesia del momento Lo sai vero Sono pronta Wow Ho 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 Che porca di una puttana di una figata Ok Facciamo una bella foto E come entriamo Non lo so Ci sono degli edifici sul crinale Io dico di salire Queste le carico tutte su insta Che meraviglia cazzo Mai Ok Oh shit Ok Qua ci sono nemici su più piani Quindi dobbiamo organizzarci benino Per Per farli fuori Allora Io direi che come sempre È opportuno partire dal cecchino Non vedo altri A parte loro tre Per il momento Allora Diciamo che mi è fondamentale Fare il giro Cazzo il cecchino Mi ha quasi visto Ah ma sono tutti e tre Cicchini Mi sa questi Allora La questione è Che io ho un modo per girarli Devo trovarlo Che niente L'unica è passare da sotto Cazzo 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 Non mi possono vedere In tutti i sensi Niente Come passo Perché io non Non ho la capacità Di vedere Quando Si gireranno Verso di me Ok devo stare attento A quello Che se abbassa la mira Mi ciocca Ma appena si volta Passo Ci siamo Anzi Fammi scendere Perché Devo stare Il più basso possibile Come mi ha visto Ok Ottimo Ma quindi Mi stai dicendo Che non posso eliminarli Vabbè ma che sfiga Dai Non mi sparavano Anche l'arma Non so perché Che sfiga Che cilio va a vero C'era tutto Perfetto Cazzo C'è qualcosa Laggiù C'è un uovo A terra qui Beh porca troia Però Voglio che la troviate Subito Per stavolta è andata Un attimo Niente laggiù Rispondi Attenzione Ne abbiamo perso Un altro Ma non ti sei accorto Che ti è morto davanti Sappiamo che sei qui Ma che Cazzo Credo ci sia qualcuno Questo è pesante Devo stare attento È corazzato Vai Vai cazzo Oh yes Dammi sto cazzo Di fucile No 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 Ridammi il fucile Il coso mio Che è meglio Che è decisamente meglio Ok E fin qua A cazzo Non l'ho preso E fin qua È andata bene Non so se prenderla Questa granata Potrebbe tornarmi utile Effettivamente Allora Apriamo velocemente Sta cassa Puttana E quelli Eh non vorrei Che mi cioccassero S'aprissi la cassa Ma c'hanno tutti gli elmetti Non posso ciottare nessuno Cazzo Cioè se io sto qua Mi vede Sì Ci provo Infatti Io ho levato Ma come mi ha visto Che stronzata Parca troia Che cazzo D'armici avete E non è facile Prendere la mia Sì ma tu non fai niente Cioè tu mi guardi Che pare Porca troia Porca troia Un attimo Un attimo Ho visto qualcosa Sta attento Però non è giusto Scusate Come dovrei Come dovrei ucciderli Stealth Se sono tutti insieme E soprattutto E soprattutto Se il cecchino Mi rompe i coglioni Cioè Va bene tutto Però io non è che sono Udini Scusate 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 E te che cazzo vuoi La No è uscito Come sono spiritoso Ma dove cazzo E' andato Quell'altro Hanno visto Quello Oh yes Oh yes Dai Prendi sta granata Preferisco le granate Al C4 Sinceramente Ma proprio Nettamente E' l'arma Ah l'ho già preso Allora Allora Vediamo se riesco Aprire Senza Che mi cagino Il cazzo Deve essere Un po' meno Volgare Ok Allora Questa non mi interessa C4 C4 nemmeno A posto Come l'ho detto Allora Proviamo A beccare di sorpresa Allora 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 Dicene uno Che però è pesante Mi pare di capire Non è pesante C'è lancia razzi Però Cazzo ma tutti qua Arrivano Adesso Niente Non Sono loro Che vuol dire Sono loro Ok Quello mi sa Che Che ho C'ho la testa Libera No Quel cazzo Che ho C'ho la testa Libera Si ma io In che modo Dovrei farli fuori Quelli Perdonami Oh cazzo Oh cazzo Tutti insieme Arrivano Dai Non m'hanno visto Non so come No E come E come se m'hanno visto Cazzo M'ha preso da dietro Porca puttana Ce l'avevo fatta Ah però Riparto da qua Meno male Eh vabbè Guarda quanti ne devo Riammazzare di nuovo Cazzo Cazzo Sparo Un coltivo Niente M'hanno visto C'hanno visto Non puoi fuggire Un cecchino Ammazzatela Ehi Occupati di questo strozzo Bella Bella lì Qualcuno mi aiuti Ti aiuto io Chloe E Nadine Bravissima Ho sbagliato Tasto Ridammela granata Grazie Ne mancano due Aperta Ma spara i missili Quello no No E' questo che spara i missili Vuoi la guerra Cecchino Che guerra sia Che guerra sia Wow Me la son cavata bene Molto bene Ok Ok Questo lo prendo io Grazie Ma lui era L'unico cecchino Che c'era Scusa Mi sa che ce ne erano due In teoria Però il secondo Muovate la pesca Il secondo Oh no Ma dove vai Con sto cazzo Di mitragliatore Merda Dai Porca puttana Che mi sparano Merda Niente regà Oh mio dio Che azione Che ho fatto L'ho ucciso Merda Non ho armi Datemi un'arma Datemi un'arma Veloci Qua c'era qualcosa Dai Sono sicuro Che ci fosse qualcosa Qua Dov'è l'arma Che stava qui Oh perfetto Mi hanno perso di vista No regà Che è sta storia Oh mio dio No no Prendila Adesso mi diverto io Stronzi Allora Allora Adesso ci divertiamo Porca troia No 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 Allora Allora Intanto ho sbloccato il trofeo Artiglieria pesante Capirete il perché Insomma Allora io ho finito i colpi Da cecchino Molto male direi Perché mi serve un'arma Adesso Intanto prendiamo questa Che è meglio di un calcio Nel culo No Meglio questa Ci sono anche le ammo Che pretendi di più Porca troia Regà È stato veramente Wow Difficile Allora Ma quanti cazzo siete Ma chi è quella Qua sta all'arica No un altro No regà No 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 Io non posso reggere un altro Prima ce l'avevo di tutto Adesso no Aspetta forse Se non mi fa riprendere Da Merda Qua sopra c'è il tizio Con lancia razzi Ah no Lancia granate Vabbè è uguale Merda dai Non mi vuoi sprecare così però Non lo sto colpendo C'ho ancora 33 colpi Ok almeno libero un po' La strada Eh me la devo giocare bene Regà Yes Yes La tua arma è caduta Vabbè Non fa niente Ok questo è stato ufficialmente Il combattimento più duro Di tutto il gioco Due pompazzi C'erano anche due Due corazzati Non me ne sono neanche accorto Probabilmente dobbiamo andare qua Però fatemi Fammi controllare qua Chloe C'è Nadine Sbaglio sempre Oh Sto cieco me lo prendo volentieri Eh dai apriamo sta porta Ok andiamo Vai Vai Va un altro colpo Ale Vediamo dove porta Loro non c'erano ancora arrivati qua Ok Wow è stato veramente veramente difficile sto scontro Siamo ancora qui Deve esserci un modo per entrare nella città Sì beh Però qua siamo Ci siamo arrivati almeno Allora Ce la faccio a saltare là no? Ok Wow Asav non trovava l'ingresso Così ne ha creato uno Credevo che Asav rispettasse questo gusto Asav rispetta solo se stesso Bene Sfrutteremo il suo ingresso C'è un tesoro nei paraggi Non credevo esistesse una città più spettacolare di Alebidù Già è un peccato che Delorsi ha nascosto agli occhi del mondo Ora sappiamo perché Dove sta il tesoro? No mi sto allontanare C'è un tesoro da questa parte Da qualche parte Sta da qualche parte qui però Non so dove Ah Può essere che è qua sopra? Allora se è qua sopra Non lo posso prendere adesso Probabilmente dall'alto poi mi posso calare Quindi l'unica cosa che posso fare al momento È proseguire E proseguire E poi più tardi Tornare a prenderlo Eh sì Non ho altro modo adesso Quello è un altro dio? Immagino sia solo un re Oesan Quanti furono nell'antico infero? Undici La dinastia ebbe fine con il giovane re Beh il suo piano ebbe successo Salvò la città dai persiani Ok Dovrei riuscire ad arrivare al tesoro adesso Oh cavolo Siamo già state qui Merda sono tornato indietro Giusto No che errore ho sbagliato Ho commesso un errore Nadine Perdonami Dai passa Ho sbagliato Mi spiace Intanto ci sono dei glitch E dell'illuminazione Che è un peccato Arrivato Ok Eh no Eh no Deve sta qua il tesoro C'è qualcosa che non mi quadra Perché il tesoro me lo indica qua Ma non c'è Eccolo nascosto bello lì Bello tesorino mino Vieni qua Ornamento nuziale di Lakshmi Che bello Sto braccialetto Ci permette di prendere Tutto quello che c'è da prendere Senza perderci Più o meno nulla Bello È tutto d'oro Vabbè Non sarebbero tesori Altrimenti Adesso La domanda è Come torno là? E niente Devo rifare il giro Vabbè Non è un problema Ok Madonna Gli ho impiantato un piede A Nadine Poraccia Eh Nadine Grazie Questi scorci sono sempre più spettacolari Già Sono veramente belli Però io sto scomodissimo Ragazzi Voi non avete neanche idea Perché C'ho Il microfono che È messo in un determinato modo Però mi sta veramente scomodo Allora Proviamo a metterlo così E non so Devo trovare una posizione giusta Poi la prossima volta Allora Lo scorcio è veramente bello Effettivamente Oh E se avessi dubbi Sul fatto di trovarti a Belura Ecco qui Shiva E Nandi E scommetto che quello A Ganesh Prima che gli appiopassero la testa Da elefante Potrebbe anche essere Kartikeya Il primo genito di Shiva È il dio Indù della guerra Pare abbiano scelto strade diverse Nadine Ti stai appassionando La storia Indiana? Però lei Vati grazie Però vedete che c'è sempre Il tema ricorrente Del serpente Quindi non è una cosa inventata Cioè ho detto bene prima C'è un tesoro Da qualche parte Cazzo Hanno fatto saltare l'entrata Ecco cos'era l'esplosione di prima Deve esserci un altro ingresso Vedi Allora il tesoro è qua Campana d'ottone Di Hanuman Che probabilmente è tipo Il lord delle scimmie Ah peccato che il pendolo sotto Non si muove Sarebbe stato divertente Ok l'entrata è questa Ma è sbarrata Completamente ostruita Potrei provare ad arampicarmi qua Qui dentro Da vomito Puzza 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 Che puzza Che puzza Che puzza Che puzza Che puzza C'è un tesoro Ok Ok la ce ne sono due Che non so bene cosa stanno facendo in realtà Allora il tesoro Non credo avrei potuto Non credo avrei potuto fermarli eh Probabilmente l'avrebbero distrutta Anche se mi fosse avvicinato prima Ah il tesoro sta là Sicuramente O no No mi sa che qua sotto è per andare avanti Eccolo Sì lo so che devo andare sott'acqua L'ho capito Grazie Contenitore per Battle smaltato Sarà una pietanza indiana Può essere Può essere Bene Nadine È arrivato il momento Ah vediamo se ci fa esaminare qua No Questa volta no Ok Sì ho capito Oh Buon pomeriggio Obed Buon pomeriggio Allora qua sotto Ci siamo Perfetto C'è un altro tesoro Sott'acqua Guarda Siamo in una specie di seno Non posso salire qua sopra Ah il tesoro sta da queste parti Arriva arrivo Wait a un attimo Ragazzo al tesoro Io non lo vedo sott'acqua sinceramente Eh perché probabilmente non è sott'acqua giustamente Forse ho una qualche idea di dove si trovi Foto Oh guarda La regina e le sue ancelle Forse erano i bagni reali Statue di donne Per una volta Belle Eh aspetta Ma C'erano degli uccelli nella foto o sbaglio? Le donne avevano un ruolo importante nella società oisala Soprattutto le regine Non mi sorprende Con il re e gli altri uomini sempre in guerra a combattere Si dedicavano anche alle belle arti Poesia Musica Cose così Belur era la loro città in effetti Facevano la bella vita quindi Però ragazzi io ho il tesoro Qua che non riesco a trovare Che mi sta un po' mandando a male Dove ti hanno nascosto Bello mio Dai che ti sento vibrare Dove sei? Mostrati Deve essere impiantato da queste parti E mi dispiacerebbe lasciarle indietro E questa visuale in prima persona bellissima? Ma un Uncharted in prima persona? Ah sono rimasto solo io a posto Come non detto? Merda merda Sto affogando Sì No. Eh, cazzo. Pensavo bastasse uscire dall'acqua per riprendere l'aria. Invece devo aspettare anche un po'. Ah, ma qui c'è un passaggio. Come cazzo ho fatto a non vederlo? Ecco il tesoro. Ok. Bocchino da pipa ingioiellato. Ok, è un classico bocchino. Che fa un po' strano dirlo. Fanno poco strano. Boh, detto ciò. Possiamo proseguire. Però di là magari. Che caspita c'hanno in testa? Che diavolo è questo posto? Wow. Oh, oh, oh. Ma guarda che architettura. Che cos'è? Antichi scritti in Cannada. Sembrano strofe. Potrebbero essere poesie. È una biblioteca? Pare di sì. Wow. Siamo in un'antica libreria. Anzi, biblioteca, ha detto bene lei. Questo sgabuzzino non ha nulla da contenere per noi. Ma, è Nadine? Se l'è andata per i cazzi suoi. Posso suonarlo? Forse davano spettacoli qui dentro. Aspetta, c'è un tesoro. No. Qui ci sono altri. Cos'è? Un vasetto. Ci sono. Eccolo. Cosa sei? Fiaschetta con pettine d'argento. Però io mi sono perso un tesoro dove? Ah, è una fias... Ma è geniale questa cosa. È una fiaschetta con un pettine attaccato. È veramente una bella idea. Ah, ma c'è un altro tesoro. Aha. Lo sento. Eccolo. Mi sa che è questo che mi sono perso. Vediamo. Sì. Paniere in shisham intagliato. Shish. Shish. Ma che ne sono? In tutto ciò? Cazzo. Cioè, se non avessi controllato sarei andato avanti così, a spam? Va bene. Diciamo che... Allora, qua c'è sicuramente un enigma da affrontare. Io però purtroppo ho terminato il mio tempo. Devo andare perché l'impegno mi richiama. E meno male che mi sono accorto dell'orario perché se no andavo avanti per chissà quanto ancora. Ragazzi, vi ringrazio per essere passati, per essere stati qui con me. E noi ci rivediamo questa sera alle ore 21 e 30. Le 9 e mezza più o meno. E ci facciamo un po' di Rainbow Six insieme al signor Tartissimus, altro streamer. Vi consiglio di andare a cercare il suo canale perché fa anche lui variety streaming e un po' di giochi diversi l'uno dall'altro. Quindi, ancora una volta vi ringrazio per essere stati con me. E saluto anche voi ragazzi che mi state guardando su YouTube. E ci vediamo alla prossima live. Grazie mille ancora.